Risultati delle primarie del centro-sinistra, PRG, sicurezza e grandi opere sono soltanto alcuni degli argomenti che tratteremo durante questa seconda puntata di Occhio al Voto. Dopo aver ospitato i quattro candidati alle primarie, oggi abbiamo nei nostri studi gli altri due candidati, quelli delle altre due coalizioni. Do subito il benvenuto a Stefano Marcheggiani, esponente di azione e candidato sindaco della coalizione Progressisti per Fano 2050. Benvenuto. Grazie, buonasera. E Luca Serfilippi, esponente della Lega e candidato sindaco della coalizione per Fano di centrodestra. Benvenuto Serfilippi. Buonasera a tutti. Anche questa sera è con noi il giornalista Massimo Foghetti per le domande ai nostri ospiti. Buonasera Massimo e grazie come sempre. Ora passiamo alle biografie. Stefano Marcheggiani, 66 anni, nato a Roma, è laureato in architettura, è un architetto libero professionista ed ex insegnante di storia dell'arte. coordinatore di azione a Fano e attualmente consigliere comunale con delega al Museo del Carnevale e al Museo del Teatro Romano. Inoltre è capogruppo. Dal 2014 al 2019 ha ricoperto la carica di vice sindaco e assessore alla cultura e al turismo. In questa tornata amministrativa è candidato a sindaco per la coalizione progressisti per Fano 2050, composta da nove liste. La Fano dei quartieri, Partito Socialista Italiano, Lista Civica, La Fano che vogliamo, Movimento 5 Stelle, Europa Verde, Bene Comune, Volt, Lista Ribella e Repubblicani Europei. Marcheggiani lavorerà per una Fano inclusiva, solidale e sostenibile, città della creatività e dell'innovazione. Per la partecipazione attiva dei suoi cittadini, per l'ospedale Santa Croce, per la gestione pubblica dell'acqua e dei rifiuti, per la promozione della cultura, del turismo e dei servizi sportivi. Passiamo a Luca Serfilippi, 37 anni a luglio, nato e residente a Fano, fidanzato con Francesca e babbo da 11 mesi di Edoardo. Ha conseguito una laurea in Economia e Management che gli ha permesso di diventare responsabile commerciale in un'importante azienda del territorio prima di dedicarsi alla vita pubblica. Amante della natura e dello sport, ha trasformato la sua passione per il calcio, diventando un arbitro di futsal in Serie A. Dal 2012, suo percorso civico lo ha visto ricoprire ruoli chiave nella sua città, tra cui assessore con delega l'ambiente alle politiche giovanili e poi consigliere comunale sostenuto da oltre mille concittadini. Nel 2020, la sua elezione in Consiglio regionale ha segnato un punto di svolta, culminando nel ruolo di presidente della Terza Commissione Urbanistica, dove ha guidato la redazione del nuovo PRG regionale. Oggi si presenta come candidato a sindaco con la coalizione per Fano di centrodestra, composta dalla lista civica Fano Cambiapasso, Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia, Udc, Civici Marche, Partito Repubblicano e Italiano, e noi moderati. Luca Serfilippi punta a trasformare la città in un luogo più sicuro, condiviso, inclusivo, vivibile e bello, confermando il suo impegno a favore dei concittadini e del territorio che ama. Serfilippi, partiamo da lei e torniamo all'epoca del Totonumi. Aveva dichiarato di non volersi candidare a sindaco. Chi o che cosa le ha fatto cambiare idea? Parliamo di settembre 2023, quando ero stato indicato dal mio partito come eventuale candidato sindaco, quindi sarei stato uno dei nomi da mettere sul tavolino del centrodestra e ho reputato in quella fase non mettermi nella mischia, ma a febbraio di quest'anno, quando tutti i partiti di centrodestra mi hanno chiesto di candidarmi, ho raccolto con molto piacere questa grande sfida. Fare il sindaco è una grande responsabilità, ma è anche un grande onore e da quando siamo partiti, dal 20 febbraio, sto dando il 110% di me stesso, delle mie energie e del mio tempo per convincere i più cittadini possibili a sostenermi. Devo dire che sta andando molto bene, sono molto felice di questa scelta. Ho tante persone che si stanno candidando, che mi stanno aiutando, ma quindi diciamo che questa prima fase dove io avevo detto di no ad un partito, quindi con di fatto tutta la coalizione che me l'ha chiesto, io sono stato ben contento, felice e onorato di fare il candidato sindaco e spero dal 10 giugno di poter amministrare questa città. Marcheggiani, nel 2014 perse le primarie vinte da Massimo Seri, perché ha accettato questa sfida candidandosi a sindaco di Fano? Ma noi facevamo le consultazioni incontrando tutti i partiti, le coalizioni, perché per noi il programma, il progetto da proporre ai cittadini era centrale e negli incontri alcuni andavano bene, alcuni andavano meno bene, la soddisfazione maggiore è arrivata con il gruppo già precostituito dei progressisti per Fano 2050, le cose sono andate bene come cemento programmatico, col centro-sinistra non altrettanto, poi è arrivata la proposta, è arrivata una proposta che non aspettavo ovviamente perché sul tavolo c'erano altre, credo, figure che potevano tranquillamente ambire, ma probabilmente per il mio ruolo, la mia storia che poteva forse federare meglio anche altre forze è arrivata questa proposta che mi ha riempito di orgoglio, di onore, cerco di affrontarla bene, lavoriamo con i quartieri, con le frazioni, con un programma che si va affinando via via e quindi è una bella campagna elettorale in mezzo alla gente e quello che vogliamo fare è anche riaprendo, come diremo, i consigli di quartiere. Adesso ci soffermiamo un attimo sulle primarie, riguardiamo insieme i risultati che non hanno portato ad una vittoria assoluta e dunque domenica prossima si terrà il ballottaggio tra Samuele Mascarin di Fano in Comune che ha ottenuto 937 voti pari al 30,7% dei consensi e Cristian Fanesi del Partito Democratico che di voti ne ha presi 890, il 29,1%, una differenza tra i due di soli 47 voti. Ete Lucarelli della lista Noi Civici si è affermato a 765 preferenze pari al 25%, ultima cora fattori di più Europa, lista Civica F, con 459. In totale sono stati solo, mi viene da dire, 3071 i votanti, 20 le schede non valide. Prima di sentire un vostro commento vi mostro anche i risultati delle primarie del 2014. Massimo Seri aveva vinto con 2.149 voti, più del 50% dei consensi, secondo Stefano Marcheggiani con il 26,13% e 1.116 voti e a poca distanza Samuele Mascarin con 1.000 voti pari al 23,41%. Avevano votato 4.271 elettori. Marcheggiani si aspettava i risultati di ieri. Ora tenterete nuovamente un'alleanza con il PD o comunque con questa parte del centrosinistra? Francamente i 3.000 erotti votanti sono deludenti come percentuale. Questo non me l'aspettavo perché 4 assessori, quindi noi eravamo in 3, ed eravamo da dieci anni all'opposizione, ma 4 assessori uscenti, tra cui un vicesindaco con importanti deleghe tutti, non sono riusciti a mobilitare, a avere quel bagno democratico che le primarie possono garantire, l'effetto principale delle primarie avere un'alta partecipazione. Quindi questo è un primo dato che mi sento di dire come considerazione. La seconda considerazione è che chi ambiva probabilmente a vincere, cioè Lucarelli arriva terzo. Questa credo sia una sconfitta delle civiche, che avevano invece avuto una stagione importante nella definizione del sindaco Seri e delle altre primarie. Una sconfitta anche del sindaco Seri, che si era manifestamente schierato con i teni Lucarelli fino all'inaugurazione della sede. Quindi questa è stata una sorpresa, indubbiamente. Il tema adesso, che cosa succederà in queste ore? Beh, intanto bisogna vedere in casa del centrosinistra che cosa succede, se ci si prepara a un ballottaggio che credo sia molto difficoltoso per il vice sindaco del Partito Democratico, che arriva secondo, e questo è un dato, cioè il Partito Democratico che è un partito del 20%, non riesce a mobilitare un migliaio di persone. Questo è un dato anche preoccupante dal punto di vista di quanti si affidano a questo schieramento, che forse, non dovrei dirlo io, ma mi pare di poterlo dire, necessitava di un rafforzamento, perché mi pare che sia un atto di sfiducia anche nei confronti della Giunta uscente, questo calo di partecipazione, questo calo di interesse, anche questa scarsa differenza tra i candidati che non ha marcato una qualità superiore alle altre. C'era da fare un rilancio del centrosinistra, quello che abbiamo proposto noi, e quindi non abbiamo sbagliato a fare questo. Ser Filippi, lei come commenta le primarie, poi le vorrei chiedere anche se vi preoccupa un eventuale allargamento dell'alleanza avversaria. Beh, innanzitutto mi piacerebbe impostare una campagna elettorale in cui non parlo male degli altri, non lo sto facendo, anche se mi tirano in ballo più gli amministratori attuali, quindi devo dire che il tema delle primarie non mi interessa, non mi ha mai interessato così tanto, anche perché l'obiettivo mio e nostro è quello di vincere al primo turno, e parlando con i cittadini nei quartieri l'entusiasmo che vedo, le persone che mi fermano mi fa capire che siamo molto vicini a questo risultato, ma saranno i fanesi a decidere. Di certo, l'ha già detto poco fa Marchegiani, il dato dell'affluenza è un dato importante, quindi un callo dell'affluenza rispetto a dieci anni fa, dove erano tre candidati, attualmente sono quattro, quattro assessori uscenti, quindi direi una bocciatura dei propri elettori verso gli amministratori uscenti, e soprattutto, ecco, siccome chi fa l'amministratore si misura anche con il consenso, perché amministra, quindi partono da questo vantaggio, e rispetto anche agli assessori, penso a Mascareni, che era candidato dieci anni fa, ha di fatto diminuito il consenso, nonostante assessore da dieci anni di questa città. Quindi, mi pare chiaro che sono gli elettori che li hanno già bocciati. Per quanto riguarda invece il discorso, ad esempio, di Etienne Lucarelli, quindi tutta quell'area civica, io penso che quell'area è un'area interessante, io devo dire che con la lista civica fanno cambiapasso, che rappresenta il civismo, sto richiamando, sto vedendo tante persone che a livello nazionale votano centrosinistra, o hanno votato in passato seri, o a livello nazionale votano il Movimento 5 Stelle, e si stanno avvicinando e ci stanno sostenendo. Quindi io penso che il vero catalizzatore del civismo sarà la mia lista civica, fanno cambiapasso, mi dispiace perché comunque anche umanamente so che ci tenevano tanto, però è chiaro che le primarie sono uno strumento tra virgolette democratico, dopo dieci anni sicuramente gli elettori si aspettavano un risultato al primo turno e forse senza primarie. Massimo, a te. Allora io comincerei con una domanda attualissima che però guarda il futuro. La sorta del piano regolatore, piano regolatore che si sta discutendo proprio in questi giorni in Consiglio Comunale, ci sono all'ordine del giorno le osservazioni a cui poi la civica assise dovrà dare il consenso o meno. Ebbene, che fine farà questo piano regolatore nella prossima tornata amministrativa? Verrà approvato così com'è, verrà emendato, verrà revocato definitivamente. Ora io non vi chiedo di entrare nei particolari, io vi chiedo di parlare di un'impostazione generale. Che cosa vi soddisfa e che cosa non vi soddisfa? Avete due minuti di tempo, Sir Filippi partiamo da lei. Ok, allora il piano regolatore è il documento più importante che un sindaco può portare, un'amministrazione può portare al Consiglio Comunale. Io ritengo vergognoso che questo documento che è da dieci anni che questa giunta aveva proposto e promesso arrivi a 15 giorni dalla scadenza del mandato elettorale. Io credo che sia uno strumento per prendere qualche voto in più alle primarie, direi che gli è andata male, però è chiaro che un documento così importante che va condiviso con la città, con i quartieri, non può arrivare a 15 giorni dalla scadenza del Consiglio Comunale. Ci sono 300 osservazioni, questo non è un vero e proprio piano regolatore perché non si basa nemmeno su degli studi socio-economici attuali. Alcuni studi non sono stati per niente fatti, altri risalgono a 5 anni fa quando avevano proposto Orizzonte Fano, quindi credo che sia un documento in parte vecchio, purtroppo non condiviso con i territori, con i cittadini, poi ne parleremo sicuramente, e che quindi va assolutamente rivisto. Ci tengo anche a dire che questo documento non verrà approvato definitivamente perché il documento passerà alla provincia e quindi sarà carico purtroppo della prossima amministrazione decidere se revocare il piano o approvarlo così com'è o con qualche modifica in base alle osservazioni della provincia. Di certo, ecco, l'impegno che ci prendiamo è di rimettere subito mano al piano regolatore generale che va condiviso con i cittadini, va rivisto sia nei formi che nei tempi perché ci sono purtroppo delle aree, delle zone che necessitano di uno sviluppo, noi siamo la città degli ex. Purtroppo su questo anche la politica si è sempre divisa su tanti temi, io credo che dal 10 giugno, se gli elettori ci daranno il mandato, noi uno dei primi strumenti sulla quale metteremo mano sarà proprio il piano regolatore generale che è lo strumento di sviluppo e che dà visione alla città. Non può arrivare 15 giorni prima del voto. Andiamo a tempo di riavviare il timer, Marcheggiani a lei. Sì, sono d'accordo anche io che non si porta un piano regolatore in questa scadenza di ultimi giorni, tuttavia io sollecitai di farlo perché dalla regione arrivava una minaccia importante poi rivista con una proga di due anni ma che prima non c'era e quando decidemmo di portarlo per evitare di mandare all'aria nove anni di lavoro, 250 mila euro di parcella, io valutai che un piano è vero, un po' vecchio come nasce ma più giovane di quello di Aguzzi poteva essere un passo in avanti per la città ma soprattutto ci avrebbe sottratto da quelle pastoie di reinventarci tutto uno strumento regolatore nuovo con oneri e tempi molto lunghi perché decaduto questo bisognava fare i PUG che sono nuovi strumenti urbanistici con studi di settore del tutto differenti quindi insomma una città che aveva perso già tanti soldi nella strada e altre occasioni siamo stati disponibili a trattare. Non tutte le cose ci vanno bene. Cosa mi entusiasma di questo piano regolatore? Beh, c'è un'impostazione interessante che mette in salvaguardia una lettura della città come la cintura verde, l'estensione del centro storico un po' fuori dei suoi confini per trasportare le qualità di un centro storico anche tessuti limitrofi alcune zone sono studiate bene poco coraggio in alcune scelte come per esempio il settore della decettività e del turismo che poteva essere più coraggioso delle cose che non mi soddisfano e delle scelte avventate su cui discuteremo il Consiglio Comunale nei prossimi tre o cinque consigli speriamo siano tre perché ci sono delle cose che come sempre avviene fatte all'ultimo momento vanno precisate in Consiglio quindi io auspico che sia adottato con migliorie noi ne abbiamo fatte di migliorie già in commissione urbanistica significative perché poi chi arriverà come diceva Sir Filippi prima ha l'opportunità di fare una variante generale i piani si modificano però c'è un piedistallo da cui si può ripartire senza rompersi la testa stop al tempo Massimo sì restiamo un attimo sul piano regolatore proprio recentemente il Comitato dei Residenti del Centro Storico ha contestato i vincoli che il PRG metterebbe su determinate vie le cosiddette vie tematiche le vie riservate ai giovani le vie riservate alle arti eccetera il che impedirebbe ai negozi di trasformarsi in abitazioni ma in realtà il fine del piano regolatore è quello di incentivare il requisito residenziale nel Centro Storico affinché non si spopoli ebbene ritenete che questo provvedimento sia un po' contraddittorio rispetto da una parte a vietare la trasformazione in abitazioni dall'altra invece ad incentivare l'abitazione in Centro Storico cosa ne pensate? Sempre due minuti Marchegiani Allora io penso che il Centro Storico faccia un tentativo di dare un carattere a quello che è il Centro Commerciale Naturale delle città il Centro Storico è un centro commerciale naturale se perdiamo il tessuto base di negozi in alcune vie benissimo di cosa le riempiamo? Le riempiamo di appartamenti che a volte non possono avere manco l'agibilità perché hanno un solo fronte illuminato e ventilato ma perdiamo quella struttura relazionale importante nei centri storici questo che è appunto il commercio anche io condivido che Efano ha fatto in passato un'oculata politica di scarsa espansione nelle periferie per rivalorizzare il Centro Storico il tema del Centro Storico di Efano sono gli alti affitti probabilmente delle locazioni dei negozi e poi la concorrenza ormai di un tessuto commerciale che diventa quello dei Corrieri quello di Amazon di altre edite oltre che dei centri commerciali che non mancano in questa città tuttavia non dobbiamo dimenticare che chi acquista nel Centro Storico visita la città di Pietra come salotto buono della città spazio relazionale per eccellenza io sperimenterei questo tentativo perché il piano lavoratore ha tolto il piano particolareggiato del Centro Storico quindi lo ha incamerato dopo una sperimentazione si può precisare meglio perché le cose cambiano e ogni tre anni bisognerebbe fare un monitoraggio di questi strumenti ritornando magari a precisare anche con lo strumento di dettaglio come il piano particolareggiato alcune questioni che saranno emerse in questa prima gestazione quindi non mi scandalizza che ci sia il tentativo di tematizzare alcune strade come i giovani per esempio vanno in tutto il Centro Storico però magari c'è quella strada dedicata ai giovani perché ci sono dei poli di interesse dalla Rocca al Bastione Sangallo che li attraggono un pochino di più si cerca cioè di caratterizzare un po' il Centro Storico è un tentativo a cui lascerei il tempo della sperimentazione Luca a lei io su questo tema non lo penso come Stefano Marchegiani nel senso che già in passato quando il piano regolatore è stato portato abbiamo presentato oltre 100 emendamenti una parte di questi praticamente erano quello che chiedevano il comitato del Centro Storico che condivido perché noi siamo per la libera impresa la libera iniziativa privata ben vengono le attività in Centro Storico non andiamo a limitare in delle vie che alcuni negozi si possono fare ed altri no noi dovremo favorire invece l'insediamento in Centro Storico di attività economiche naturalmente c'è tutto un tema legato al Centro Storico dove dovremmo favorire ad esempio nuovi parcheggi perché una delle problematiche per chi vuole venire in centro sono i parcheggi oppure il tema delle piste ciclabili cioè molte persone si spostano per arrivare in Centro Storico nonostante magari abitano a San Cristoforo in macchina perché? perché ci sono delle piste ciclabili fatiscenti pericolose e quindi le persone preferiscono spostarsi con la macchina io penso invece che una città che guarda al futuro da una parte non deve porre vincoli a chi vuole insediarsi in Centro Storico parlo delle attività economiche dall'altra deve favorire invece che le persone possono raggiungere il Centro Storico in sicurezza con marciapiedi adeguati piste ciclabili e non purtroppo con lo stato e parcheggi perché il tema dei parcheggi è uno dei temi che riscontro di più e che chi vive il Centro Storico sa benissimo soprattutto chi ci risiede che è veramente impossibile viverci quindi serve una politica vera sul Centro Storico condivido con Marchegiani che un piano particolareggiato del Centro Storico va invece effettuato questo sì come magari anche delle spiagge come magari anche del lungomare perché se noi abbiamo delle persone degli imprenditori che vogliono investire nel centro cittadino non poniamo gli vincoli come non poniamo vincoli sul lungomare ecco questo tema purtroppo mi dicono che forse anche la stessa maggioranza farà marcia indietro magari per qualche voto in più alle primarie comunque sono scelte importanti perché si traducono in effetti economici e anche in effetti di viviabilità restiamo un attimo in tema si è parlato spesso di limitare il consumo di suolo che tradotto significa di arrestare nuove costruzioni in zone non urbanizzate perché poi l'attività edilizia dovrebbe concentrarsi sull'esistente con le ristrutturazioni e le ricostruzioni ma nel nuovo piano regolatore questo lo lamentano gli ambientalisti ben 431 ettari di terreni agricoli saranno trasformati in residenziale servizi commerciale direzionale turistico e produttivo in questo spazio enorme potrebbero essere realizzate superfici coperte per 70 ettari allora secondo voi si tratta di un valore minimo irrinunciabile oppure la città non è fuori non ne può fare o meno senza involvere su se stessa ancora due minuti di tempo Sir Filippi allora il tema che sollecitano gli ambientalisti è un tema importante personalmente come ho già detto poc'anzi rimetteremo mano al piano regolatore ci sarà una discussione vera con tutte le associazioni con tutti i quartieri della città che non sono stati minimamente condivisi se non con degli incontri con 5 persone detto questo nel tema questo piano regolatore fa acqua da tutte le parti ad esempio uno dei temi è quello delle villette che sono state abbattute e ricostruite con condomini mi dispiace che le zone a due che sono state individuate che quindi porranno un vincolo sul piano casa quindi l'estensione del 20% sia stato messo dentro il piano regolatore sono norme tecniche però sono importanti perché praticamente stanno facendo una norma quando già i bonus sono finiti quindi hanno prima consentito di abbattere ricostruire e creare condomini e adesso pongono dei veti sul piano regolatore generale quindi almeno purtroppo vedo che si stanno addirittura lodando di questa iniziativa diciamo che praticamente mettono una recinzione alla stalla quando i vuoi sono già fuggiti però è chiaro che io personalmente ritengo che se ci sono delle opportunità in cui le abitazioni vengono ristrutturate e ampliate fino al 20% non c'è niente di male anzi dovremmo favorirlo certo non in centro storico ma in tutti i quartieri limitrofi l'ampliamento del 20% credo che sia un buono strumento per poter rimettere mano agli edifici perché il tema delle case e concludo è un tema serio va affrontato col piano regolatore generale perché una delle problematiche maggiori dei fanesi soprattutto dei giovani che non ci sono case in affitto o case in cui poter andare ad abitare penso che il prossimo sindaco ci dovrà mettere mano in maniera seria diamo il tempo lo stesso di riavviare il timer va riconosciuto che questo piano regolatore riduce di circa 10.000 metri quadri la edificabilità prevista dal precedente piano regolatore di Aguzzi quindi un tentativo di togliere quelle megalottizzazioni che non sono mai partite quel sovradimensionamento fatto in passato c'è poi c'è un altro aspetto che con le osservazioni e questa è un'operazione che abbiamo fatto anche noi e sono state accolte il meccanismo che ha ferito di più alcuni quartieri che hanno subito la concentrazione la sostituzione edilizia delle villette con le palazzine d'appartamento che hanno tolto spazi di relazione luce a volte ma soprattutto la monetizzazione dei parcheggi la monetizzazione dei parcheggi è un meccanismo perverso perché se faccio 8 appartamenti e monetizzo 16 posti auto me li ritrovo nella strada e quei quartieri sono soffocati ormai come poderino da un parcheggio lineare continuo nelle vie di accesso che non è accettabile mi fa piacere che nelle contradduzioni che abbiamo visto in commissione urbanistica queste osservazioni di toglia della monetizzazione laddove c'è un tentativo eccessivo di densificazione sia stato accettato è stato accettato anche la riduzione di edificabilità nelle campagne nelle colline per quei necessari accessori agricoli per chi non è un concessionario del fondo ma per chi ha l'orto o il campo e lo vuol tenere in ordine quindi fino a un massimo di 28 metri quadri l'ordine non più 70 o passa metri quadri come era in prima istanza quindi si è fatto un lavoro in commissione urbanistica di miglioramento di alcune norme è un piano di riduzione che era iniziato già togliendo delle aree edificabili per non asfissiare con la tassazione IMU chi non aveva edificato poi c'è una regola aurea le lottizzazioni si possono prevedere per un futuro di sviluppo della casa che comunque resta un bene per alcune fasce ancora importante ma poi è la realtà dei fatti che le attiva se il mercato non c'è non c'è Massimo Sì ora cambiamo completamente argomento e parliamo di Aset la nostra azienda che fa parte del patrimonio del comune la prossima tornata amministrativa sarà senz'altro decisiva per la sorte di questa azienda che dicevo rappresenta una grossa parte una grossa risorsa del patrimonio il comune persiede il 98% di questa azienda ebbene il prossimo servizio che andrà a gara sarà quello del gas poi succederanno anche altri bandi e quindi anche l'Ase si troverà nella condizione di dover competere con le altre aziende per continuare a svolgere il servizio che attualmente lo fa ebbene che cosa intendete fare per tutelare questa grossa risorsa dei cittadini risorsa che è stata un po' al centro di tante polemiche la mettiamo con marche multiservizi non la mettiamo facciamo il digestore non lo facciamo allora c'è stata molta indecisione e molta anche confusione nella passata tornata amministrativa un po' di chiarezza per la prossima se ciascuno di voi sarà sindaco del comune di Fano Marcheggiani tre minuti di tempo allora Aset è una risorsa straordinaria di capacità professionali di posti di lavoro che va difesa ovviamente su questo non abbiamo mai avuto dubbi in consiglio comunale diverso dire che non si parla di nessuna politica aziendale per Aset come è capitato negli ultimi quattro anni diverso dire non facciamo il biodigestore non si capisce perché abbiamo perso questa straordinaria occasione non spiegata alla gente quello è stato un colpo alle politiche aziendali di Aset una azienda che non spicca per capacità imprenditoriale e se non per le risorse sue perché non si è parlato di politiche industriali Aset deve avere il diritto di fare col suo management in politiche industriali in un momento in cui tutti si stanno alleando questo non vuol dire perdere sovranità ma noi abbiamo fatto delle domande in consiglio rimaste in evase dagli ultimi due anni e mezzo a questa parte uno con chi facciamo il biodigestore non si sa i saggi stanno studiando con chi partecipiamo alla gara del gas perché non si sa non possiamo perdere la gara del gas ma sappiamo una cosa che non possiamo più usare nemmeno come Bancomat Aset o le AES eccetera perché non fanno più investimenti sulle loro strutture né investimenti sul territorio se portiamo via i circa 2 milioni e passa all'anno necessari per chiudere il bilancio quindi questa è una consapevolezza che chi andrà a governare deve avere cioè il gettito sarà inferiore perché c'è bisogno di restituire a queste aziende la capacità di imprendere e di investire su se stesse per non perdere appunto la loro capacità quindi noi abbiamo fatto in consiglio quello che potevamo e di più senza avere risposta questo ci preoccupa molto cioè ci preoccupa una difesa a critica non ragionata e tutti vogliamo difendere ASE ci mancherebbe altro siamo tutti di fa noi capiamo il valore ma non stare nel mercato e blindare la decisione fino dopo le elezioni perché questo è il tema se ne occuperà chi arriverà si è galleggiato su queste scelte importanti noi non lo accettiamo come metodo noi dobbiamo assumerci responsabilità in consiglio comunale chi governa chi fa opposizione oppure un'opposizione costruttiva come noi abbiamo cercato di fare cercando di dare le risposte perché il biodigestore era finanziato c'erano 9 milioni di euro in 15 anni di indennizzo che sarebbero consentito di fare un salto in avanti nella politica dei servizi della città nel suo complesso quindi bisogna guardare con fiducia a queste opportunità senza fare calcoli elettoralistici che poi magari si rivelano anche infondati perché poi con 9 milioni di opere compensative i camion del biodigestore potevano essere sistemati con barriere antirumore e altro ma adesso siamo nelle condizioni di andare col cappello in mano a vedere chi lo fa chi l'ha già fatto e chi ci ospiterà riavviamo eccolo qua il tema di ASET è un tema importante io credo che la parola d'ordine sia trasparenza questa purtroppo è quella che è mancata in questi 10 anni su questa azienda sul futuro dell'azienda e dei suoi dipendenti perché se ASET in questo momento è in mano pubblica i cittadini lo devono a tutta l'opposizione e una parte della maggioranza compreso marchegiani lo dico senza mezzi termini perché noi abbiamo fatto una battaglia per ASET per mantenere la pubblica c'era un progetto industriale purtroppo nascosto nel cassetto che grazie ad alcuni mezzi di informazione è uscito fuori sui giornali io credo che non sia il modo migliore anzi non sia proprio il metodo per gestire questa partita è chiaro che c'è un tema vero che è il tema delle gare il tema del gas è la prima gara dove il comune è introita a 750 mila euro c'è il tema dell'idrico il tema dei rifiuti quindi è inutile nasconderci che la prossima amministrazione dovrà decidere perché su ASET come su tanti altri temi questa amministrazione ha preferito non decidere e il tema del gestore è uno di questi e quando un sindaco o un'amministrazione non decide altri decidono e fanno le cose spesso è capitato con Pesaro che su molte partite ha deciso ed è andato avanti e Fano è sempre rimasta in secondo piano su ASET è chiaro che servirà una collaborazione con altri privati perché ASET da sola dentro le gare farà fatica a sopravvivere quindi io quello che farò sicuramente è fare un'operazione di trasparenza parlare di questi temi in anticipo e non quando la decisione è già stata presa nelle segrete stanze in maniera trasparente condividerla con i consiglieri comunali sia di maggioranza che di opposizione perché ASET non è di un partito piuttosto che di un altro ASET è un patrimonio della città ho sempre detto che ASET è forte fino a quando ha le reti fino a quando ha gli impianti come ad esempio la discarica e eventuali nuovi investimenti che potrebbe realizzare in città però è chiaro che va studiata sotto una politica di integrazione anche con le altre aziende non solo a nord ma anche a sud i comuni che servono devono essere aiutati implementati e naturalmente sono quelli che fanno anche fatturato e quindi fanno creare economie di scala all'interno della gestione di ASET un tema importante è quello dei servizi oltre che delle tariffe sulla quale è chiaro che bisognerà un attimino rivederle senza fare tante promesse però è chiaro che ci sono delle disparità il tema dei servizi noi da anni che in consiglio comunale ci proponiamo per la tariffa puntuale per dei cassonetti interrati ci sono delle zone come Lido la Sassonia dove è uno schifo passeggiare e vedere i cassonetti dove purtroppo per fortuna e purtroppo le attività economiche devono portarci dei rifiuti hanno chiesto dei cassonetti non sono mai stati realizzati e addirittura li pagavano loro quindi pensate questo tema ma anche dei servizi sul territorio perché si possono creare tante economie di scala abbiamo finito noi ci dobbiamo fermare per qualche istante poi torneremo a parlare di tanti diversi temi tra cui quello della sicurezza tra poco Bentornati a Occhio al Voto con Stefano Marcheggiani Luca Serfilippi Massimo andiamo avanti con le domande partiamo dall'arretramento della ferrovia sì parliamo dall'arretramento della ferrovia ma sotto quest'ottica le responsabilità di un sindaco sono tante anche quando certe cose non competono direttamente al sindaco vedi per esempio la sicurezza vedi la sanità e beh i cittadini fanno riferimento per prima cosa sempre al sindaco come se fosse lui a tenere il timone in mano e questo riguarda anche lo spostamento della ferrovia quello spostamento che era stato così approvato dal governo Draghi con un finanziamento di un miliardo e 800 milioni di euro questo caso invece scoppiato di nuovo con un ripensamento del governo e della regione Marche per quanto riguarda la persistenza o meno della vecchia linea ferroviaria lungo la costa e certo è che se si liberasse questo corridoio tra Fano e Pesaro tutto il territorio ovviamente ne guadagnerebbe tantissimo in opportunità di aziende di ambiente eccetera ebbene allora io chiedo a ciascuno di voi volete o potete giocare una carta per recuperare il vecchio progetto oppure vi accontentate di perdere questa grossa questa grossa opportunità Sir Filippi partiamo da lei tre minuti di tempo sì innanzitutto bisogna dire che il vecchio progetto famoso il bypass di Pesaro avrebbe finanziato solamente il bypass di Pesaro e quindi l'arretramento della ferrovia sarebbe stato solamente parziale ovvero sarebbe rientrata Fosso Segliore quindi rovinando uno dei paesaggi più belli che abbiamo della nostra costa ed era finanziato solamente quel tratto lì poi Seri ha fatto posizione insieme alla regione Marche mentre bisogna dire che il progetto non so se condiviso da una parte di questa amministrazione è quello di arretrarlo fino a Metauriglia quindi con un rovinando diciamo Montegiove o comunque verso Carrara e poi fare rientrare la ferrovia a Metauriglia io penso che entrambi i progetti siano completamente sbagliati condivido l'impostazione che come regione Marche abbiamo portato avanti e che stiamo portando avanti di un arretramento complessivo della ferrovia da nord a sud di tutte le Marche so che è stato commissionato uno studio di fattibilità per l'arretramento da Pesaro Gradara fino a Dancona quindi questo primo arretramento della ferrovia e condivido questa impostazione naturalmente sul tracciato esistente se guardiamo al futuro potrebbe essere interessante una metropolitana di superficie perché comunque attualmente è utilizzata come trasporto pubblico locale e non dobbiamo perdere questa possibilità di scendere in centro storico o nel lungomare però sull'arretramento io sono assolutamente favorevole ad un arretramento complessivo e non parziale della ferrovia ancora qualche secondo minuto e mezzo di tempo andiamo avanti allora riavviamo il timer e sentiamo l'opinione di Stefano Marcheggiani innanzitutto di fronte a questi megaprogetti bisognerebbe vedere le cose chiare perché non siamo nelle condizioni se non degli enunciati che sentiamo sulla stampa poi capire gli impatti io ero intervenuto sul giornale dopo un'intervista del sindaco di Pesor che annunciava trionfalmente l'arretramento della parte pesarese con un incredibile impatto di rientro forse o signore una cosa totalmente inaccettabile dicendo che non era solo il tema di Pesor e Fano era il tema di una tratta territoriale che andava concepita con una visione urbanistica di servizi ovviamente complessiva e lì passò tranquillamente il fatto che anche Fano avrebbe avuto il suo bypass rientra a Torrette non tanto a Metaurilia rientra un po' più giù poi le opinioni che si sono accavallate Ancona voleva ancora i binari perché ha il porto ma quello che mi sembra sia mancata in questi mesi una chiarezza di impostazione che come diceva Foghetti prima i sindaci registrano ma poi RFI e il governo centrale ordina e sistema pianifica io non sono contrario a una visione di più alto sistema che leghi proprio tutto il territorio marchigiano ha una visione complessiva perché non possiamo ragionare nei termini sul nostro territorio non vorrei che questa situazione che impatta anche su finanziamenti stratosferici si parla di 60 miliardi di impianto frenasse una situazione che invece era molto appetibile per noi e poteva essere una sorta di primo stralcio dopodiché anche qui si è parlato cosa teniamo i binari vengono tenuti per una metropolitana di superficie in più si fa la tratta veloce a ridosso dell'autostrada quindi Fano verrebbe compresa comunque tra due linee ferroviarie come immaginiamo questo sedime che è un grande tema di progettazione se guardiamo i binari anche se noi abbiamo quattro binari sostanzialmente però se immaginiamo senza nulla questa terra può diventare una grande opportunità oppure una terra di nessuno che va gestita con un progetto di straordinaria elevatura e di grande immaginazione quindi secondo me chi si mette al tavolo a ragionare di queste cose al di là dei flash che si usano in campagna elettorale deve vedere opportunità costi benefici tempi perché se questa cosa si realizza tra vent'anni noi possiamo dare il nostro parere oggi ma sarà un fatto insomma che affronteranno di petto con le tecnologie dei prossimi vent'anni chi ci sarà ma per oggi a me interessa comprendere se è una butade elettoralistica o un modo di guadagnare tempo oppure se c'è una situazione seria allora dovremmo capire cosa accade negli attuali binari cosa accade nella alta velocità Reggio Emilia insegna due stazioni una di alta velocità e una tradizionale che hanno cambiato anche il destino di quella città ovviamente nei confronti a Lombardia e di Milano Massimo sì un tema con cui dovete se sareste sindaco confrontarvi è quello dell'ambiente dovete o contrastarlo oppure accettarlo in pieno essere sensibili alla tutela dell'ambiente credo comunque che sia un modo corretto per governare una città però vediamo un attimo quello che si è fatto fino adesso accampando delle tesi ambientaliste a Fano si è persa la possibilità di realizzare molte cose che avrebbero così aiutato lo sviluppo della città ne elenco qualcuna ne elenco qualcuna la pista dell'aeroporto la pista in cemento dell'aeroporto che era già finanziata dall'Enac oppure le termine di Carignano a suo tempo quando gli imprenditori sono stati cassati dalla loro volontà di realizzare certe strutture ebbene è stato detto di no e poi ancora il nuovo ospedale Fossosegore anche quella è stata una struttura che è stata per evitare l'impatto sull'ambiente è stata bloccata e poi perché dire recentemente il sottopasso di Viale Caroli dove avrebbero dovuto passare le carrozzine dei disabili e non farle più passare per via Fabio Filzi che è una strada infernale non solo per i pedoni ma soprattutto per coloro che camminano con una carrozzina oppure un passeggino di una mamma che porta a spasto il bambino ebbene l'ambiente qui ha avuto una sua decisione che in realtà credo che abbia un po' moderato lo sviluppo della città allora vi pare che si stia esagerando oppure questa è la vostra linea di condotta il timer è pronto continuiamo questa alternanza dunque Marcheggiani a lei sì il tema dell'ambiente è un tema molto serio è molto serio anche nei confronti delle prospettive del pianeta dei nostri territori quindi poi il tema dell'ambiente è gestito non solo dai comuni ma dal ministero dalle sovrintendenze e quindi gli episodi che citava Foghetti poc'anzi alcuni hanno impattato col diniego della sovrintendenza al di là delle opinioni personali io credo che tutte quelle cose si possano risolvere con l'attenzione dell'ambiente cioè le cose vanno coniugate per esempio è impossibile fare un sottopassaggio di Viale Cairoli rispettoso della storia del Viale e dei portatori di handicap è possibile abbiamo 300.000 tecnologie che evitano uno squarcio di 140 metri in trincea quindi io non sono perché la modernità non si confronti con la storia assolutamente con l'ambiente ma possiamo risparmiare alberi possiamo risparmiare spese possiamo progettare con una tecnica diversa da quella di Ferrovie dello Stato che fa il suo lavoro molto bene nelle stazioni noi li abbiamo anche se non sarebbe troppo facile noi dobbiamo condividere le qualità architettoniche storiche della città con le infrastrutture poi per quanto riguarda la pista dell'aeroporto beh c'è stato un dibattito infinito Enac decide Enac aveva messo a disposizione se non sbaglio 3 milioni di euro c'era un tema di terreni terreni dei maniali terreni del comune permute io ho seguito fino al 2023 poi non so bene cosa sia successo ma anche quella è una cosa non in capo decisamente io penso che non sia una priorità abbiamo l'aeroporto di Ancona da proteggere e difendere perché penso che un'attenzione ambientale ci debba essere cioè io certi tipi di aerei che arrivano lì a una certa velocità con il parco che dobbiamo fare è un parco della protezione civile quindi se teniamo bene quell'aeroporto che va messo in sicurezza qualora non lo fosse in alcuni punti per carità però è una roba di Enac in quel caso lì anche le terme di Carignano beh le terme di Carignano hanno presentato i proprietari due osservazioni accolte è un bellissimo progetto migliore di quello del passato così come il casellino che si fa entro il 2025 no? è meglio di quello precedente quindi voglio dire il progresso va armonizzato con i controlli ministeriali con i controlli dell'ambiente perché poi l'ambiente diventa un bene che non voglio essere volgare che però fa mercato i turisti che vengono da noi vengono per le colline per il paesaggio alla qualità dell'aria dell'acqua del suolo del cibo insomma stiamo attenti non contrapponiamo queste categorie perché le cose che abbiamo detto Enac deciderà ma io sarei per tenere una pista ben fatta com'è tutto il resto si sta facendo riavviamo andiamo ancora un attimo alla regia prego Sir Filippi sì innanzitutto sui temi citati molte cose non sono state realizzate perché questa giunta era divisa su tutto il tema dell'aeroporto lo diceva poc'anzi Marchegiani io non sono d'accordo con lui perché la pista è dieci anni che doveva essere realizzata ma siccome un partito ed era stata anche promessa ma siccome un partito che fa parte di questa maggioranza aveva detto no alla pista ancora la pista non si è realizzata io penso che le strutture che abbiamo le infrastrutture che abbiamo devono essere valorizzate e potenziate Fano ha un aeroporto ben gestito dove il consiglio attuale ha sistemato anche i conti che c'erano ma purtroppo è poco valorizzato dall'amministrazione comunale perché è divisa quindi sono favorevole alla pista e se diventerò sindaco sarà una delle prime cose alla quale metteremo mano naturalmente insieme ad ENAC il secondo tema è il tema delle termine di Carignano anche qui purtroppo una delle mancanze che ci sono state in questi anni è la mancanza di dialogo con gli imprenditori e questo è un tema dove purtroppo è mancata la politica chi aveva comprato le termine chi è ancora proprietario delle terre che sono andate all'asta aveva un progetto di sviluppo è stato presentato alla città ma da lì in poi non c'è stato più nulla quindi è chiaro che da parte mia c'è anche tutto il tema dei 50 posti letto sulla sanità privata che sono su Fano che sono e purtroppo Fano ha perso 5 anni per mantenerli a Fano quindi se diventerò sindaco è chiaro che farò un tavolo con la proprietà attuale e cercherò di capire quali sono le loro prospettive di crescita di quell'area perché è interesse mio e della nostra città riaprire le terme di Caregnano e dare sviluppo a uno dei polmoni verdi più belli che abbiamo in città poi c'è il tema del casellino del Fenile il tema del casellino è stato ripreso dalla regione Marche purtroppo anche qui il comune mi risulta che non ha nemmeno fatto ad esempio un incontro con i residenti di Fenile nonostante la soluzione proposta è autorizzata e migliorativa rispetto a quella che era stata bocciata dalla sovrintendenza perché è lontana dal quartiere quindi sarà mia premura incontrare in primis il quartiere che comunque con questa infrastruttura avrà ancora maggior potenziale quindi sono favorevole naturalmente al casellino di Fenile c'è un tema che non è stato toccato ma che mi piace toccare che è la variante di Gimarra sulla quale questa amministrazione si è incaponita con i famosi 20 milioni di euro grazie a noi e grazie anche tutto il resto dell'opposizione siamo riusciti in parte a bloccare su questo tema come su altri devo dire che c'è stata una grande convergenza e ecco la tutela dell'ambiente è importante in quel caso c'erano le colline di Roncosambaccio di Gimarra sulla quale dobbiamo assolutamente tutelarle e continueremo a farlo se diventerò sindaco se vinceremo le elezioni amministrative Massimo andiamo avanti sì è morto Italo Rota purtroppo questa è una notizia che ci ha colpito recentemente è morto anche Giuliano Vangi sono nomi che rappresentano la massima espressione dell'arte e che hanno avuto a che fare molto con Fano come in passato hanno avuto a che fare Dario Fo e ancora prima negli anni ancora molto prima l'architetto Gregotti ma tutti sono stati contestati acerbamente perfino Vangi quando è stata così inaugurata la statua della Concordia ci sono state una pioggia di critiche ebbene allora io mi chiedo adesso rimane Cucinella speriamo che Cucinella vada bene però non ci sono i soldi e anche lì la situazione rimane in stallo ma cos'è questa è una sorta di timore reverenziale per questi grandi personaggi oppure è un atteggiamento provinciale che fa prevalere gli interessi politici sulla bellezza dell'arte secondo voi qual è la risposta a questa domanda? Tre minuti Sir Filippi partiamo da lei Innanzitutto partiamo dai compianti Rota e Vangi due straordinari artisti architetti che hanno arricchito di bellezza la nostra città uno di questi è il progetto Iti su Sant'Arcangelo dove io ci tengo a ringraziare pubblicamente Marchegiani perché quando era assessore alla cultura è riuscito a fare questa opera straordinaria portando un illustre architetto dico che le cose belle sulle cose belle non ci dobbiamo dividere quindi se diventerò sindaco è chiaro che le cose fatte bene come quella di Cucinella devono essere sviluppate naturalmente con i finanziamenti che devono essere trovati per quanto riguarda il progetto di Iti Sant'Arcangelo grazie alla regione Marche perché c'è stata tutta una vicissitudine di ricorsi al Tar Consiglio di Stato grazie alla regione Marche sono stati confermati questi fondi che altrimenti rischiavano di essere persi e quindi c'è naturalmente stato anche il nostro impegno a confermare l'investimento l'unico tema vero su quell'immobile è come verrà gestito perché chi diventerà sindaco e lo dico sempre qualcuno mi richiama anche perché a me non mi piace fare facili promesse ad esempio le asfaltature delle strade o tanti altri servizi che mancano in città c'è il tema della gestione degli immobili pubblici dove la spesa corrente sarà sempre più difficile da gestire e mi auguro che insieme per quanto riguarda la fabbrica del carnevale insieme alla carnevalesca piuttosto che tutto il tema della casa dei jazz con l'associazione Fanno Jazz o altre associazioni si riesca a trovare il modo per gestire al meglio questo immobile perché è un progetto visionario ci sono anche altri immobili che vanno naturalmente risistemati ristrutturati penso ad altri immobili privati come l'ex Vittorio Colonna o l'ex Caserma Paolini noi abbiamo tante ex aree che vanno valorizzate vanno potenziate con dei progetti illuminati e penso che su questi temi poi quando presenteremo il programma ci sarà anche la nostra visione di città Riavviamo ancora una volta sempre tre minuti a disposizione eccolo Marco Gianni a lei sì ci ha colpito molto purtroppo l'altro ieri questa scomparsa di Italo Rota il quale vorrei però precisare che non è stato contestato a Fano perché l'impostazione che Italo ha dato al lavoro su Sant'Arcangelo è stata subito la condivisione e la compartecipazione un incontro immediato all'ex palestra Venturini alla palestra Venturini poi un altro alla Sala Verdi e poi il desiderio suo io l'ho visto il 14 di dicembre l'ultima volta a Milano di andare avanti durante il cantiere col coinvolgimento della cittadinanza queste grandi operazioni grandi da un punto di vista di impegno culturale perché poi Sant'Arcangelo è un contenuto edificio e lui accettò una parcella molto contenuta per il tema lo affascinava il Carnevale sapeva tanto di Fano eccetera però si era subito preoccupato lo devo dire a nord del vero di avere un rapporto con la cittadinanza un rispetto da tenere addirittura nella facciata che voleva mantenere finché rimanessero gli ex studenti di quell'istituzione che se la ricordavano così quindi lui era molto attento a queste cose poi è ovvio che grandi trasformazioni del territorio mi riferisco al Gregotti per esempio di tanti anni fa che potevano rischiare di impattare dall'alto su delle comunità e quello era un progetto che prevedeva la chiusura della spiaggia addirittura con una corona di cabine che proteggevano dalla sabbia nella sua mentalità una passeggiata sopraelevata ecco in quel caso oggi si fanno dei laboratori per tempo con la cittadinanza si costruisce insieme quindi direi che la tecnica progettuale per evitare questi scontri che non pagano che non ripagano nessuno ha capito da un altro che il progettista scende dal piedistallo per confrontarsi con la gente che deve essere un'alleata perché le cose si fanno per la gente come diceva Luca è interessante andare avanti cioè i contenitori non bastano c'è il contenuto di questi servizi pubblici c'è il progetto di sostenibilità il progetto di direzione artistica e quindi c'è tanto lavoro da fare per quello e anche per il museo di cui abbiamo avuto 6 milioni e 400 mila euro del Tato Romano perché anche il Tato Romano l'abbiamo acquisito sarà molto importante che il ministero insieme a chi dovrà governare scelga l'interprete giusto e anche lì la procedura deve essere quella subito del museo prima del museo come l'abbiamo chiamato cioè cominciamo a portare la gente a vedere gli scavi archeologici mettiamolo in sicurezza affinché tutti possano entrare e anche lo scavo archeologico diventa come si dimostra un modo perché la gente fidelizzi se stessa col passato e comprenda che l'investimento pubblico tornerà sotto forma di reddito per la città quindi ecco queste procedure ci aiutano una memoria anche su Vangio ovviamente questo grande straordinario artista questo grande giovane vecchio che fino all'ultimo ha lavorato e ci ha lasciato tante belle cose qualcosa può incontrare di più nell'arte è sempre successo qualcosa di meno però arrivano tante opere in eredità prego prego andiamo avanti sì ex zuccherificio vent'anni di degrado vent'anni di un'area abbandonata con scheletri di capannoni ed erba alta è quello che troviamo andando in quella zona è un'area privata però che nulla può costringere i proprietari ad investire in un certo modo l'amministrazione comunale ha tentato di dare delle indicazioni precise ha anche coinvolto la cittadinanza sono nati dei progetti fantasiosi devo dire e poi tutto è rimasto così è rimasto così perché perché il privato ovviamente se vuole investire deve avere una certa un certo ritorno una certa retribuzione ora questo nuovo progetto di un polo logistico alimentare presentato dalla proprietà viene ancora una volta contestato viene contestato dicono no noi vogliamo tornare all'antico vogliamo tornare al vecchio progetto originario allora questa bisogna stroncarla perché dopo vent'anni non si può ancora cincischiare sul fatto che non bisogna dare una possibilità di recupero al privato per il suo finanziamento oppure fare tutto in maniera ambientale assettica così di rivalutazione tanto lì poi nessuno poi investirà allora diamo una indicazione precisa ai vostri elettori che cosa farete per lo zuccherificio una volta sindaco tre minuti di tempo Stefano Marcheggiani a lei allora lo zuccherificio presenta questa nuova proprietà un grande edificio 200 metri per 200 metri per un po' lo logistico del fresco cioè verdura fresca carne fresca eccetera ed è un centro che dovrà rifornire ovviamente non solo Fano ma una parte delle Marche o vicino l'Umbria immagino noi abbiamo suggerito di utilizzare i 40.000 metri quadri coperti per fare una comunità energetica quindi sono occasioni per sposare questi grandi impianti con il fotovoltaico per esempio quindi io non è che vedo male una soluzione come diceva Foghetti togliamo tutti gli scheletri facciamo un monolite importante grande che darà qualche posto di lavoro perché sono impianti tutti meccanizzati ormai il tema però che dobbiamo analizzare già dal Consiglio Comunale nel dibattito e penso che riguardi tutti perché qui non ci si divide tra opposizioni è la movimentazione mezzi perché lì arrivano non meno di 150 tir al giorno ogni giorno è una zona industriale comunque sì bene è una zona che confina con una scuola con un po' di case ma io pongo il problema perché non abbiamo visto a livello urbanistico l'impatto è simulato ma chi se ne intende basta ragionare con i direttori dei supermercati lì i rifornimenti all'ingrosso arrivano ogni giorno con l'impatto dai 150 e 200 camion poi partono con i furgoni quindi io da un lato sono favorevole affinché l'area venga ripulita sistemata e attiva e possa essere risolta bene anche con questa virtuosa utilizzazione dell'energia pulita dall'altro lato mi preoccupa un po' e lo porrò in consiglio comunale come domanda cosa si fa a livello collaterale per ammorbidire o rendere tollerabile l'impatto veicolare perché l'impatto veicolare è sulla città non è solo sulla zona bisogna arrivarci alla zona industriale quindi questo penso che sia un punto interrogativo che riguarderà tutti e vorrei avere delle rassicurazioni perché altrimenti rischiamo di risolvere un problema e di portarne dentro un altro più grosso forse Sir Filippi a lei stessa domanda ex zuccherificio che cosa farà? allora innanzitutto io sono nato a Ponte Metauro quindi proprio di fronte alla chiesa di Madonna Ponte e quindi ho i ricordi quando ero piccolo i primi due anni giocavo alla Pineta quindi un'area bellissima e anche ben tenuta della nostra città quindi ricordo ancora l'ex zuccherificio quindi gli odori i camion di notte questo era quello che c'era in quella zona parliamo di 36 anni fa detto questo io il progetto non l'ho visto voglio essere molto chiaro perché è arrivato in corsa di piano regolatore con un emendamento tra l'altro del sindaco quindi innanzitutto mi piacerebbe vederlo non ho non ho diciamo un'idea a priori cioè non sono contrario a priori a questo progetto perché purtroppo la città troppo spesso si divide su tanti fronti però serve trasparenza nei confronti dei cittadini e nei confronti di chi comunque frequenta quei luoghi quindi ci sono delle scuole ci sono ecco un po' di servizi annessi dico anche che però siamo partiti che dieci anni fa c'era uno sviluppo di quell'area questa giunta ha bloccato quello sviluppo di quell'area quindi i capannoni sono lì perché questa giunta ha bloccato quel piano di sviluppo poi lecito e tutto però la giunta aveva illuso i cittadini e me lo ricordo bene perché gli dissi voi non andate a illudere i cittadini dello sviluppo di quell'area perché gli chiesero che cosa volevano nello zuccherificio bene lo zuccherificio è da sempre un'area privata quindi è chiaro che la pianificazione urbanistica la fa il comune ma a sedere ci si siede con gli imprenditori ecco oggi c'è una nuova proprietà mi fa piacere sicuramente ci siederemo intorno a un tavolo con l'attuale proprietà perché è mia cura è nostra cura sviluppare quell'area il polo logistico come ho detto io non ho a priori un'idea di contrarietà però mi piacerebbe capire come può essere sviluppata in armonia con chi ci vive tutta quell'area lì ci sono anche un tema perché io non sono contrario allo sviluppo se noi abbiamo degli imprenditori che vogliono investire a Fano noi dobbiamo cercare di aiutarlo troppo spesso abbiamo perso delle opportunità come città di Fano che comunque è una città importante con la viabilità comoda quindi possiamo avere molto più sviluppo molti fanesi sono andati a investire a Pesaro quindi se ci sono degli imprenditori a maggior ragione locale dovremo sederci intorno a un tavolo non illudere i cittadini capire se ci sono anche delle opere compensative per aiutare chi vive in quella zona penso ad esempio anche se non riguarda chi ci vive ma tutto il tema ad esempio degli ex carri di carnevale noi abbiamo degli ex carri fatiscenti un investitore investe lì a fianco perché non gli possiamo chiedere ad esempio come opere compensative o comunque a scomputo degli oneri di realizzare nuovi capannoni di carnevale per i nostri carri i carristi sono strettissimi non riescono neanche a muoversi ma adesso parlo di quello come potrebbe esserci una soluzione per la viabilità una soluzione per le piste ciclabili e l'ambiente circostante abbiamo ancora due domande per voi Massimo sì altro argomento attuale quello della sicurezza proprio esploso anche in questi ultimi giorni ogni tanto Fano riceve uno scossone in termini di sicurezza riceve uno scossone per fatti che accadono sia all'interno delle famiglie purtroppo in questo caso sono le donne a fare il ruolo di vittime ricordiamo la povera Anastasia di cui ancora di cui va avanti il processo proprio in questi giorni ma spesso accadono anche fatti all'esterno ricordiamo quello che è accaduto due sabati fa in pieno centro storico vicino a Piazza Andrea Costa una rissa violenta tra marocchini e tra egiziani ebbene allora il primo motto che sorge dalla città sindaco non fai abbastanza per tutelare la sicurezza anche questo comunque è uno di quegli episodi che non compete direttamente all'amministrazione comunale anche se il sindaco ha delle leve per interagire ma allora io vi chiedo a voi una volta sindaco una volta che occupate questo ruolo importante che cosa intendete fare come provvedimenti concreti aumenterete l'organico dei vigili urbani istituirete le pattuglie notturne che mancano in questo momento aumenterete ancora di più la videosorveglianza che cosa intendete fare perché poi i cittadini si rivolgeranno ancora una volta a voi e non crediate che nella vostra gestione del comune non accadono poi questi episodi perché è normale insomma cadono a Milano ma cadono anche in un piccolo borgo tranquillo magari nell'entroterra pesarese Sir Filippi tocca a lei tre minuti Allora io innanzitutto non credo che sia normale quello che sta accadendo che è accaduto e sicuramente potrebbe continuare ad accadere in maniera molto pacata è chiaro che vogliamo tutti una città bella e sicura il sindaco ha delle competenze ha degli strumenti che deve utilizzare e non è quello di censurare eventuali video pubblicati oppure qualche assessore che mi scrive le letterine per gli agenti del comando di polizia che mancano e che sappiamo benissimo che fanno una grande difficoltà io mi aspetto da chi amministra una città una presa di posizione seria delle azioni concrete perché il tema della sicurezza è un tema molto importante che non va sottovalutato io vivo in centro storico quindi so benissimo che cosa ha assistito il centro storico nei mesi scorsi ci sono delle situazioni anche in periferie ma vedere in pieno il centro storico di giorno spacciare in piazza Miani piuttosto che alla Roccamale Testiana piuttosto che al Pincio io penso che un sindaco non possa far finta di niente ci sono delle azioni come le telecamere che sono importanti ma non bastano riconosco a questa amministrazione che ha fatto degli investimenti importanti sulle telecamere come dicevo prima non mi piace solamente criticare però ci sono delle situazioni delle integrazioni che vanno affrontate insieme alle forze di polizia che io li ringrazio sempre per lo straordinario lavoro che fanno però si può fare di più ad esempio gli agenti di polizia locale devono girare di più in centro storico nelle periferie illudervi che ripristeremo il vigile di quartiere non abbiamo il personale sufficiente per fare questo anche se potrebbe servire e il tema ad esempio dei consigli di quartieri è uno dei temi che nei primi 100 giorni vorrò costituire detto questo tornando al tema della sicurezza io mi sarei aspettato dal sindaco la convocazione del comitato dell'ordine della sicurezza in questi mesi sono state potenziate le forze dell'ordine perché Fano è stata messa come città critica e c'è stato un grande lavoro giornaliero nelle piazze che citavo però ripeto il sindaco può e deve fare di più ad esempio facendo girare gli agenti di polizia locale non solo per fare le multe anche in centro storico ma per visionare per sorvegliare Amà personalmente e anche fermando queste persone che spesso sono identificate poi c'è un altro tema che è il tema dell'integrazione che riguarda i servizi sociali con ad esempio degli educatori di strada che possono andare a parlare con questi giovani perché spesso sono giovani che superati i 18 anni escono dalle case dei minori e sono lasciati all'abbandono quindi è un tema che un sindaco non può voltarsi dall'altra faccia ma deve affrontare con i servizi sociali quindi questo è un impegno che mi prenderò se diventerò sindaco dal 10 giugno Riavviamo come sempre il timer 3 minuti Marcheggiani tocca a lei Tema molto complesso e da affrontare su più fronti la prima cosa che io farei è una diagnosi della sicurezza locale che ci manca perché fanno a fenomeni come venivano descritti dobbiamo però conoscerli più in profondità c'è un tema di sicurezza che si affida a intemperanze a volte di giovani che hanno un disagio un'ansia l'abbiamo vista e facilmente rientrabili anche con l'apporto di quartieri cito l'encomiabile lavoro del quartiere Poderino dell'associazione Poderino che si è fatta parte di gente attiva nei confronti di giovani che facevano un po' di vandalismo esprimevano un disagio li hanno introiettati nelle dinamiche costruttive che mettono in campo con quella sorta di attività bellissima che fanno culturale di ascolto quindi poi c'è però il tema di una criminalità visibile o non visibile e io parlo adesso del livello più alto cioè di infiltrazioni noi abbiamo molti beni requisiti e gestiti dalla mafia requisiti dagli enti pubblici in questa zona quindi non siamo un territorio immune da situazioni che coinvolgono il paese quindi io farei intanto una diagnosi poi ci sono delle situazioni che un sindaco può fare innanzitutto togliere le aree di degrado pensate alla pista di go-kart ex poligono di tiro sotto passaggio e le aree di degrado non solo perché la pazienza dei cittadini è stata abusata ma perché lì avvengono cose promiscue è una centrale insomma di ambiguità e quindi quella va restituita alla civiltà poi ci sono delle zone di margine dove ovviamente il discreto pattugliamento delle forze di polizia a cui va il mio ringraziamento ma a questo punto Luca può fare qualcosa dalla regione perché il governo adesso è quello che rappresenta anche lui e chiaramente le forze di polizia vanno aiutate implementate un po' non per controlli terroristici della polizia ma perché la volante che gira unitamente certo a un corpo dei vigili urbani e degli assistenti sociali che devono essere più sul territorio quindi prevenzione è una parola importante prevenire piuttosto che curare dopo comunque entrambe le cose ma la prevenzione evita di trovarci di fronte a situazioni che esplodono quando noi sappiamo la variegata complessità del disagio e dei livelli del disagio siamo in grado anche di mirare meglio con le risorse a disposizione e gli interventi Massimo chiudiamo siamo all'ultima domanda allora parliamo di sport parliamo di sport vorrei concludere con una domanda per quanto riguarda le strutture sportive domanda netta confermate l'impegno di realizzare il palazzetto dello sport nuovo? punto interrogativo che fine farà lo stadio Mancini con quella tribuna di fronte alla tribuna coperta che è deserta da tante tante partite vorrei anche sottolineare il fatto che le gare sportive che si svolgono a Fano sono dei grandi attrattori turistico di carattere turistico perché soprattutto in bassa stagione arrivano le squadre arrivano gli atleti arrivano gli accompagnatori arrivano anche i familiari degli atleti riempiono gli alberghi e quindi sono veramente una risorsa per quanto riguarda l'economia della città non solo degli alberghi ma anche dei negozi dei ristoranti insomma di tutte le attività che ci sono anche in centro storico quindi sono importanti e non vorrei dimenticare anche nel novero di queste strutture la pista Zeggarini dove attualmente i lavori sono iniziati a parte le pause che accadono per forza di cose pause che poi sono anche troppo lunghe magari come è avvenuto nel parco dell'aeroporto ma questo è un altro discorso e oggi non lo trattiamo ok a voi la parola sempre tre minuti Marche Gioni sì lo sport per molti aspetti è centrale importante importante per i nostri giovani importante per tutti i cittadini quindi le infrastrutture sportive sono il motore di questa attività venendo allo stadio venute meno mi pare le prospettive di uno stadio nuovo bisogna mettere a posto lo stadio che abbiamo i Mancini e quindi quella tribuna va messa a posto noi abbiamo già messo nel programma con lo sforzo economico che sappiamo l'entità che non è poca cosa però quella è una cosa che va sistemata come la prima parte già fatta per 500 spettatori l'altra è molto più grande si farà con un paio di stralci ma quella è un messo a posto perché quella è una struttura che ci consente di promuovere lo sport più popolare d'Italia che ha una ricaduta nei giovani molto forte unitamente a questo la Zengarini per esempio dove si sta facendo un lavoro importante perché avremo una palestra avremo una situazione che viene ottimizzata scusate parlo della pista del campus sostanzialmente ci siamo capiti però io lì farei il parcheggio previsto nella zona verde di fronte al cimitero storico monumentale perché quando si faranno le gare arriveranno 22 pullman i parcheggi non basteranno quindi bisogna anche pensare alle infrastrutture di supporto a quelle cose palazzetto nuovo doveva essere già fatto era nel programma di questa amministrazione non è stato fatto io dico un palazzetto lo si vuole da 3.500 forse da 2.000 posti è già sufficiente per farlo comunque se è 3.500 lo valuteremo perché non solo serve un palazzetto nuovo noi abbiamo una bella palestra diciamo un palazzetto da 750 posti diciamo che è una bella palestra non è un palazzetto lo sport aprirebbe anche al turismo congressuale oltre che agli eventi sportivi fortunatamente stanno partendo delle operazioni pubblico privato di integrazione dei servizi come a Bellocchi nel quartiere nuovo di Bellocchi dove parte un'operazione di carattere privato sul terreno comunale dove ci sono molti campi polivalenti messi con una convenzione in comune di una decina d'anni di utilizzo la piscina abbiamo visto che sta partendo è partita noi siamo anche per tentare il salvataggio della Dini Salvalai che costa 19 mila euro con palestra e quindi prima di buttare via tutto vorremmo fare una riflessione in modo tale che un'altra struttura che esiste con un investimento ovviamente che toglie l'amianto e che mette a posto le cose non possa essere andata persa perché Fano è una città grande e serve anche un altro impianto probabilmente sempre con la collaborazione della regia ripartiamo Sir Filippi a lei innanzitutto penso che sul tema dello sport serva cambiare passo in questi dieci anni tante sono state le occasioni perse io ho incontrato le società sportive sono uno sportivo quindi è chiaro che il palazzetto dello sport che a me piace più chiamarlo un palazzetto un auditorium dove ci possono essere realizzati sia eventi sportivi ma anche eventi culturali musicali si parlò già da più di dieci anni di questo impianto che deve essere almeno da tremila posti e deve servire più discipline è chiaro che se c'è un imprenditore privato disponibile a realizzarlo ben venga ci si deve sedere intorno a un tavolo e capire qual è la soluzione migliore anche qual è l'area migliore perché l'area scelta personalmente non mi convince tantissimo detto questo è chiaro che anche come Regione Marche ho fatto sono stato promotore di un ordine del giorno per destinare due milioni di euro a Fano per questo investimento quindi spero che vengano messi a bilancio e quindi ci sia anche un aiuto da parte degli enti sovraordinati ma detto questo c'è tutto un tema di carenza degli impianti sportivi della nostra città impianti vecchi impianti in parte sistemati che per fortuna come la Zengarini vedranno la pista l'atletica Zengarini vedranno una sistemazione o anche la pista del rugby però è chiaro che anche in questi casi il passaggio non è stato fatto in maniera assolutamente decente con società sportive che sono state di fatto espulse quando potevano continuare ad allenarsi di certo bisogna dirlo che in questi 10 anni questa amministrazione ha avuto tutti gli strumenti sia il PNRR sia lo sblocco del patto di stabilità per investire su queste risorse bene sullo sport a parte qualche campo sintetico non è stato fatto un bel niente quindi è chiaro che la prossima amministrazione dovrà trovare gli strumenti anche in collaborazione con i privati perché ci sono stati anche dei privati che si sono dimostrati disponibili ad investire su questo settore di certo è mancata come sempre la scelta io penso che se noi avessimo delle strutture sportive adeguate potremmo fare anche dei campionati nazionali o internazionali a Fano poi c'è tutto un altro tema che magari ne parleremo la prossima volta che è quello delle strutture ricettive perché spesso gli sportivi vengono a Fano ma vanno ad alloggiare a Pesaro o a Senigallia perché non abbiamo strutture ricettive quindi anche sulle strutture ricettive servirà un piano veramente di sviluppo del lungomare della ricettività della nostra città altrimenti ce la cantiamo ce la suoniamo da sola io concludo dicendo come recita il mio spot io penso che adesso è ora che arrivi è ora che smettiamo di dividerci su tutto guardiamo singolarmente tutte le situazioni ci si sieda ci si condividono le scelte e si faccia perché uno dei problemi di questi anni è che non è stato fatto e quindi sarà compito spero mio se i cittadini mi daranno l'opportunità della giunta dei consiglieri e della città di migliorarsi abbiamo finito il tempo a disposizione ringrazio e saluto Stefano Marchegiani candidato sindaco della coalizione progressisti per Fano 2050 grazie Luca Serfilippi candidato sindaco della coalizione di centrodestra per Fano e Massimo Foghetti grazie di nuovo per la collaborazione Occhio al voto torna lunedì prossimo 15 aprile subito dopo il nostro telegiornale Occhio alla notizia grazie per averci seguito buona serata grazie a tutti